Ciao a tutti da Svideo! Cosa facciamo qua di questi? Cos di carnevale? Facciamo cos di carnevale? Allora, questo video è dedicato ad Angelo Angelo, sapete, ieri ha compiuto gli anni però li ho fatti anche io ieri quindi insomma, non l'ho fatto in tempo e quindi il video te lo dedico oggi Tanti auguri ad Angelo, tanti auguri ad Angelo tanti auguri ad Angelo, tanti auguri a te Tanti auguri ad Angelo Tanti auguri ad Angelo Tanti auguri ad Angelo Tanti auguri a te Tanti auguri Ok allora Concentrazione che stavo già cadendo in acqua da solo Allora vedete che ho la salsiccia Perché ho fatto le missioni della settimana Che mi hanno dato la skin della salsiccia Allora adesso io Cerchiamo almeno di qualificarmi La prima La prima E se non mi qualifico la prima ragazzi Perché parlo così? Non lo so Perché parlo così? Parlo un po' così? Non lo so perché Comunque Allora dai adesso Stavo per cadere Ma ragazzi Sono un hot dog praticamente Perfetto perfettissimo Mi sono qualificato Se sbatto la mano contro il microfono Perfetto perfettissimo Mi sono qualificato Perfetto perfettissimo Perfetto perfettissimo Mi sono qualificato E adesso Vediamo cosa mi danno Space Draw E allora, quando, 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 quando gioco a Stambol Sempre ho paura di cadere E sì, quando, 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 quando gioco a Stambol Rischio sempre, sempre di cadere Allora, sinceramente, mi sono qualificato Perfetto, 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 perfetto Mi sono qualificato, perfetto, perfetto, perfetto Perfetto, 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 perfetto Mi sono qualificato, mi sono qualificato Sinceramente, sono un mito Allora Allora andiamo Un passo avanti e uno indietro Stavo già per cadere Per sbagliare tutto No dove sto andando No no Ah si ci sono Sono ancora vivo ragazzi Sono ancora vivo Sono ancora un panino Mezzo mangiato No no sono un panino intero Allora Uno dog Molto otto e molto dog No ecco 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 Sbaglio E niente Allora Abbandoniamo abbandoniamo Comunque l'importante era Fare tantissimi Tantissimi Auguri All'angeluccio Nazionale Tanti auguri A te Tanti auguri A te Anche se lo so E ci becchiamo un pezzo di Dragon Guy Che carina sta skin Che carina Che carina E niente Possiamo guardare nel negozio Con 82 Che ci faccio Niente I razzi I razzi I razzi I razzi Possiamo fare la ruota Festiva Ok Facciamo la ruota Festiva Allora Possiamo fare 325 300 Angelo portami fortuna Lovergal Un pezzo di lovergal Lovergal Ancora Lovergal V-Dragon V-Dragon 19 su 20 Dai che la completo Dai fammela completare V-Dragon Guy Eh no Isofarts Ok Dai Completami V-Dragon Guy Dai Dai Stambolino Dai Stambolino Dai Sì 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 No È passato oltre Ciò con le stroveri Non ho finito niente Non ho completato niente V-Dragon Guy Guarda 19 su 20 Ce l'ho quasi Eh vabbè Eh vabbè Pazienza Pazienza E niente Ragazzi Allora Facciamo ancora Tantissimi Auguri Ad Angelo Buon compleanno Angelo Ancora Anche se era ieri Lo festeggiamo oggi Yeee E Ciao tutti Ciao tutti Aspetta che Ti voleva salutare Ah io Non mi ha fatto ancora parlare Svideo Anche io volevo fare Tanti auguri ad Angelo Ciao 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 Va bene Ora torna a mangiare Le tue carote Rabbit E niente Auguroni Angelo E grazie a tutti quelli Che hanno guardato il video Se volete Mettete like Se vi è piaciuto Ciao 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 Ciao